Il mio lavoro si concentra intorno a temi di fede e credo e anche intorno all'idea di big data, ossia dati. Fondamentalmente mi interessa capire attraverso i lavori che produco qual è la relazione fra le cose in cui crediamo e il modo in cui queste ci vengono proposte. Sono interessato molto all'idea dei data perché i dati in se stessi contengono una sorta di aurea scientifica perché comunque sono sempre stati connessi a un'idea di scienza. I dati stessi, siccome appunto hanno questa capacità di comunicare una verità molto forte, vengono molte volte utilizzati per poter dimostrare che alcuni elementi della realtà sono effettivamente così. Ossia se io voglio comunicare a qualcuno differenti versioni della realtà, se una di queste versioni è supportata da dati, molto probabilmente verrà riconosciuta come la versione della realtà più accettabile, più possibile. Però questa è semplicemente una metodologia di analizzare la realtà, lascia fuori tutto quello che poi in realtà è l'aspetto più emotivo e più intimo che noi stessi abbiamo, che l'individuo ha in relazione a quello che è il senso della realtà e forse in senso più lato della vita. Allora tutti i miei lavori sono in qualche modo influenzati da questo rapporto fra dati e credo e credenza e belief, come direbbero in inglese. Nel 2006 mi sono trasferito in Inghilterra ed ho avuto modo di studiare a Goldsmiths ed ho avuto modo di studiare tramite professoressa Janice Jeffries, il corso di MFA in Computational Studies e questo era fondamentalmente un corso che coniugava elementi di Computational Technologies, quindi di scienze informatiche, la prima volta che lo dico in italiano, scienze della comunicazione informatica, in realtà all'interno di un corso di belle arti. In questo modo si fa sì che gli artisti che vengono fuori da questi studi possano esprimersi secondo quelli che sono delle conoscenze tecnologiche del tempo in cui ci troviamo in questo momento e poi ognuno di noi, io nel mio caso, sono stato messo in grado di poter adoperare queste conoscenze per poter in qualche modo operare una critica della realtà contemporanea tramite la conoscenza di queste tecnologie digitali. Allora tutti i lavori che faccio, sia che siano in realtà delle stampe che vengono da screen printing, da serigrafia originariamente, o che siano delle sculture in qualche modo o sono influenzate da o fanno uso di dati, big data, in un modo o in un altro. Per questa mostra sono stati selezionati da Anca, la curatrice, due tipi di lavori creati in due momenti differenti che in qualche modo appunto rispecchiano questi due ingredienti, questi due elementi della mia pratica. Per esempio Data Flags che verrà installato oggi è una serigrafia molto molto grande, abbastanza grande, sono due metri e trenta per un metro e quarantacinque ed è un foglio di carta serigrafato a mano con un inchiostro a base olio e con un inchiostro con una vernice conduttrice e quello che fa è permette, non diventa, non funziona fino a quando viene toccato, quindi già di per sé funziona come un lavoro che ha una sorta di barriera con l'audience, non diventa vivo, non vive fino a quando l'audience non decide di rompere questo dettame che di solito i musei e le gallerie hanno, secondo il quale non puoi toccare il lavoro e quindi si muovono e arrivano a sfiorare la superficie. Quando sfiorano la superficie o toccano il lavoro questo aziona una voce di un soprano e questo soprano canta è il costo delle azioni della Lehman Brothers e fondamentalmente copre gli ultimi dieci anni di vita della Lehman Brothers che significa ogni volta che lo tocca tu senti dei dati, dei numeri che vengono cantati e se lo tocca cinque volte questi sono in chiave finanziaria e qui varranno a un giorno di vita della Lehman Brothers perché in chiave finanziaria i dati funzionano che ci sono cinque set di dati per ogni giorno di azionario e questi set di dati sono il costo dell'azione all'apertura del mercato, alla chiusura del mercato il valore più basso, il valore più alto che consentono di creare questo grafico a candela che vediamo sempre nei grafici di storia finanziaria e poi il volume del trade, delle transazioni che vengono eseguite e questa voce canta ognuno di questi valori, perché se tu lo tocchi cinque volte è un giorno se tu continui a toccarlo sarà il giorno successivo e ci sono abbastanza dati per far funzionare il lavoro a coprire i dieci anni di vita, i dieci anni di vita che vanno da fondamentalmente... Devo rifarlo perché... sorry... si prende i miei capelli e l'ho scoperto ok, e ora nella camera se puoi parlare con noi ok 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 e per cui i data flags ogni volta che viene toccato ha questa risposta sonora del soprano che canta e questi dati sono stati comprati al New York Stock Exchange e sono gli unici tipi di dati che potevano essere comprati per le aziende controllate da Lehman Brothers fondamentalmente dieci anni in quel tempo è interessante notare che un'azienda anche dopo che fa il bankruptcy quindi va in bancarotta comunque continua ad avere i propri dati conservati all'interno dello Stock Exchange della borsa azionaria in questo caso del mercato in New York il lavoro fondamentalmente è una metafora di questa idea di che cosa della definizione di reale o irreale per poter diventare vivo, per poter essere azionata l'opera deve essere toccata dall'audience e in questo caso è come si dice in italiano la metafora del detto carta canta ossia se qualcosa è vero in qualche modo deve poter cantare e in questo modo abbiamo un pezzo di carta molto molto grande può essere anche se vuoi una metafora della banconota che nel momento in cui viene toccata e solo quando viene toccata effettivamente canta questi dati sono stati registrati da un soprano agli studi di Goldsmiths il lavoro è stato fatto quando era ancora l'ultimo anno di Goldsmiths e la cantante e la sua voce è stata praticamente registrata e poi sezionata e con un piccolo programma è stata ricomposta per cui ogni volta che il pubblico tocca l'opera questa canta il lavoro è stato commissionato dal Victoria & Albert Museum per una mostra che è stata fatta nel 2013 al museo appunto a Londra e poi è stato stampato a mano, serigrafato a mano a Londra e poi ha fatto, ha girato in differenti musei adesso è qui l'altro lavoro che invece presento si chiama Masters and Slaves Google ed è un lavoro completamente differente che è stato fatto insomma quasi quattro anni dopo DataFlags in questo caso durante questi anni il mio interesse per il mercato finanziario si è spostato ed è andato a focalizzarsi su quelli che sono i flash crash e i micro flash crashes fondamentalmente questo significa sono dei piccolissimi crash finanziari che avvengono durante un intervallo di tempo molto limitato e prendono il nome del famoso flash crash che è avvenuto nel 2010 e che ha colpito il mercato azionario di New York è semplicemente un caso che sia in realtà gli stessi e per il quale ancora, del quale ancora non si conoscono effettivamente le cause l'unica cosa che ancora è stata riconosciuta su quale tutti più o meno sono disposti a, così dice, agree che tutti, non mi ricordo la voce in italiano che insomma sul quale tutti sono d'accordo è il fatto che sia derivata dal fatto che nel mercato azionario ci siano troppi software, bots o anche intelligenti come AI che operano allo stesso tempo immagina che nel 2017 all'incirca il 72% di transazioni finanziarie sul mercato azionario americano erano operate via bots senza nessun intervento umano allora quello che l'opera fa fondamentalmente dal punto di vista strutturale è il grafico del crash che ha colpito Google Google Alphabet che è la società fondamentalmente di Google e di fatto è l'unica forma che noi vediamo il flash crash siccome non si sa, è un mistero ancora non si sa perché sia avvenuto l'unica cosa che noi sappiamo è fondamentalmente l'effetto che ha avuto ossia l'impatto che ha avuto sulle azioni di Google che sono cadute in maniera molto forte in una frazione, in un cinquecentesimo di secondo ossia siccome non si sa che cosa l'ha causato e non si sa quali siano gli agenti dietro questo meccanismo ho deciso di utilizzare l'unica cosa che abbiamo a disposizione sia il grafico che è stato fra l'altro creato dalle macchine che registrano il mercato azionario e ho utilizzato un'altra macchina, un piccolo software per prendere il grafico che è l'unica impronta l'unica traccia lasciata dietro questo meccanismo completamente illegale, totalmente misterioso e la macchina che cosa fa? utilizza dei set completamente autonomi per poter riarrangiare questo grafico e trasformarlo in una maniera completamente autonoma e lo fa diventare un lavoro quasi di arte astratta e continua a riarrangiarlo fino a che praticamente diventa un qualcosa di che è praticamente impossibile comprendere l'unica persona, l'unica macchina che può ancora comprendere è la macchina stessa che è la scultura e questa è fondamentalmente una metafora del fatto che questi linguaggi che sono stati creati dalla fine degli anni 60 alcuni dicono se vogliamo comprendere che ne so Colossus e tutto quello che succedeva a Bletchley Park negli anni 40 con Alan Turing magari dagli anni 40 in poi tutti questi linguaggi creati da ingegneri elettronici era possibile comprenderli fino a qualche anno fa ma adesso queste macchine hanno imparato perché gli è stato detto di dover parlare con altre macchine e quindi hai bots che analizzano il tuo tweet su Twitter o il tuo post su Facebook o social media e lo mettono in relazione alle news e parlano con altri bots che alla fine sono in grado di posizionare, di creare azioni di vendere o comprare azioni sul mercato si crea un universo, un'ecologia che è quella dei data che è talmente impossibile da comprendere che fa in modo che noi stessi o comunque gli esseri umani o quelli che in qualche modo erano i masters i padroni di questa tecnologia ne sono diventati gli schiavi, gli slaves per cui il titolo Masters and Slaves appunto si rifà a questo tipo di metafora feel free to cut in, many times grazie 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 ragazzo